L'avviso pubblico è rivolto a beni di proprietà di privati o di enti ecclesiastici, associazioni del terzo settore, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria. Saranno ammistibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i privati o soggetti del terzo settore abbiano la piena disponibilità. I progetti dovranno riguardare edifici che siano testimonianze significative delle comunità rurali e del paesaggio. L'avviso quindi è rivolto a bagli, muline ad acqua, case coloniche, frantoi, masserie che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto connesso con l'attività agricola circostante. Si potrà intervenire anche su fienili, stalle, forni, pozzi, recinzioni, terrazzamenti, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco, elementi legati alla religiosità rurale, come cappelle, chiese di campagna ed edicole votive. Tutti i beni del paesaggio rurale siciliano che nel tempo hanno subito un progressivo processo di abbandono e degrado. Soltanto nel territorio compreso tra Sciacca, Caltabellotte e Menfi ve ne sono un'infinità che potrebbero essere recuperate, restaurate e riutilizzate. La misura prevista per ciascun intervento ha un tetto massimo di 150.000 euro. La procedura di selezione è a sportello, ossia fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con una previsione di finanziare oltre 500 interventi sul territorio siciliano. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso l'applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti, a partire dal 20 aprile e non oltre il 20 maggio. C'è quindi un mese di tempo. Gli interventi potranno essere finalizzati anche alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali e ambientali turistici. Un modo dunque di preservare i valori del paesaggio rurale storico, attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni che sono espressione della cultura materiale ed immateriale siciliana.